questo tipo ha un desiderio sin da quando era bambino sia quello di comprarsi un bel pappagallo tropicale ma non ha mai trovato un'occasione conveniente insomma perché i prezzi erano molto alti però un giorno mentre stava passeggiando per strada passa davanti ad un'uccelleria e vede un bel pappagallone tropicale tutto variopinto bellissimo con il prezzo scritto sotto 50 euro allora si precipita subito dentro all'uccelleria e dice al commesso ma quel pappagallo è fantastico ma come mai costa così poco e il commesso è guardi signore quel pappagallo noi non sappiamo bene da dove provenga però di una cosa siamo certi è di una volgarità indicibile e sto tipo vabbè ma a me che mi importa guardi lo prendo uguale se gliele insegno io le buone maniere e allora come si fa vabbè io però signore l'ho avvisata insomma insomma questo tutto contento prende sto pappagallo compra un bel trespolo se lo porta dentro casa questo tra l'altro vive anche da solo mette il suo pappagallo sul trespolo lo lega con la catenella insomma tutto ordinato tutto sistemato come lo mette sul trespolo sto pappagallo inizia a fare brutto fio della mignotta testa di cazzo stronzo imbecille merda infame allora questo dice oddio ma ma che cacchio c'ha sto pappagallo allora lo prende e lo chiude dentro un armadio a chiave dopo un secondo da dentro quest'armadio si inizia a sentire brutto fio della mignotta tirami fuori d'acqua dentro testa di cazzo merda stronzo insomma sto pappagallo dice parolacce proprio ad oltranza allora questo disperato apre l'armadio prende il pappagallo nuovamente e lo infila nel freezer e chiude il freezer allora prima si sente stronzo ma fa cura testa di caccia dopo 10 secondi silenzio totale allora aspetta 20 30 40 50 secondi sente tutto silenzio da dentro il freezer allora sto tipo pensa tra se vabbè avrà capito la lezione insomma ritira fuori il pappagallo dal freezer lo mette sul trespolo e gli dice al pappagallo ah capita la lezione eh eh va bene eh mu hai capito qui come te devi comportà e il pappagallo senti ma ma levi una curiosità e questo eh dimmi ma che t'ha fatto il pollo a